Religioso silenzio, e non dico religioso a sproposito, abbiamo l'onore di avere con noi, a mille voci, Papa Francesco! Fratelli e sorelle, che piacere stare con voi, mi vedete un po' ingrassato, è che mi piace mangiare, e mi sono portato appresso anche un cornetto, perché ho saputo che lì in mezzo ci sono i milk and coffee, così facciamo colazione assieme, questo ve lo lascio, e vi voglio dire che mi piace mangiare, ma la cucina semplice, non troppo sofisticata, perché dovete sapere tutte le domeniche, dopo la Santa Messa a San Pietro, mi faccio un piatto di spaghetti, pomodoro e basilica, ma non si può parlare di mangiare, come pare, si deve parlare di musica, vedo tanti cantanti, e anche noi dal Vaticano abbiamo dato dei personaggi importanti, dei cantanti al mondo dello spettacolo, tra le sorelle, Suor Cristina, sì perché balla da Dio e ha una voce della Madonna, che piacere dicevo! Ma vi voglio dire anche però che Suor Cristina si è molto arrabbiata all'ultima edizione di Valando con le stelle, che ha litigato con Guglielmo Mariotto, perché gli ha dato quattro, allora lei gli ha risposto, e io i voti l'ho presi tanto tempo fa, però siccome si parla di musica, e io non sono tanto ferrato, vi voglio lasciare, diciamo, voglio lasciare il mio posto all'altro Papa, il Papa è merito, è merito suo, sì sono Papa io, Papa Ratzinger. Oggi è con grande gioia che sono qui con voi, mi piacciono molti cantanti a me, a me piace molto Cino Paoli, perché è riuscito a raccogliere il paratiso in un posto piccolo, il cielo in una stanza.